Perché non esistono le cose facili e difficili, esistono le cose che io so fare e le cose che io non so fare. Non devo dirle spostate e farlo io, perché non impara niente. Se sente solo un idiota, se volevo che si sentisse solo un idiota allora ho fatto bene, ma se voglio che impari non devo dirle spostate, se lo devo far fare a lui, finché l'ho fatto.